... ... Direi proprio di sì a questo punto. Allora, le motivazioni per le quali il Maestro Arbore si è aggiudicato il premio ambasciatore Terre di Puglia sono queste. L'ambascione a parte. L'ambascione a parte, i cardoncelli a parte. Maestro, sempre, a me quando mi dicono maestro mi sento Shostakovich. Maestro. Però, sono anche, tipo, ho visto che l'utente della provincia mi ha detto il Maestro Arbore e gli ho detto, ho pensato sempre che Gasman mi diceva, attento, che quando ti chiamano maestro è cominciato a parlare. E mi sono ricordato che chiamavo maestro Fellini e mi chiamano maestro, ma un... Non la chiamerò più maestro. Per essere naturalmente un ambasciatore, avendo esportato nel mondo un modello artistico e umano, tipico delle genti del Sud. Enzo Arbore. No, 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 questa è. Grazie. Camaro, impasto travelling via Alcina, professore dell'Università Cattolica di Milano, professoressa Maria Luisa De Natale, grazie a voi. Poi, Pino Salvaggi, Pino Salvaggi. Grazie.